Musica Mercoledì 4 settembre, sono le 7 del mattino e questa è Fano TV, la rassegna stampa Occhio ai giornali che comincia come sempre con il santo di oggi. Vediamolo subito con l'aiuto della grafica, oggi è Mosè, la tradizione biblica opera il passaggio della figura storica e quella simbolica di Mosè, la futura guida di Israele. Il sole è sorto alle 6.34, tramonterà stasera alle 7.40, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con temperature in lieve aumento, soprattutto quelle massime, ancora un po' di venti di moderata intensità. Per chi ha la possibilità di andare al mare, il mare sarà mosso con moto ondoso in graduale indebolimento. Per la giornata di domani, giovedì 5 settembre, ancora cielo sereno su tutta la costa adriatica, temperature in lieve aumento nei valori massimi, invece diminuiranno quelle della notte. Ancora venti che soffieranno dai quadranti settentrionali a tratti moderati lungo la costa. Per venerdì arriva il peggioramento con i temporali che ci saranno su tutta la regione, anche sulla costa adriatica nel corso della giornata, coperture e precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale. Le temperature, ovviamente quando ci sono i temporali, diminuiscono anche nei valori massimi, i venti sono deboli, il mare sarà poco mosso. Ancora instabilità debole nel fine settimana. E adesso i giornali, come sempre, partiamo dal Corriere Adriatico, questa è la pagina di Pesaro, l'edizione di Pesaro, niente regali alla Renco, che ha cambiato, si è trasferita e la corsia resterà unica. L'effetto imbuto a Campanara, Belloni, l'assessore del Comune di Pesaro replica, dice il Comune non torna indietro. La corsia dunque resterà unica in maniera permanente in strada a Montefeltro, lo abbiamo fatto per rispettare la legge e garantire la sicurezza. Bianchi e rossi, parliamo di vino a centro pagina, sarà un grande vino quello di questa annata. Anche nella nostra regione la vendemmia è partita un po' in ritardo, la produzione in calo tra il 10 e il 12%, come nel resto d'Italia. Il Verdicchio sarà davvero super. E poi dalle Marche, il sì, dei grillini, un sì che arriva compatto per quanto riguarda il nuovo governo. E il Via Libera, questo governo giallorosso, arriva anche dalla nostra regione attraverso la piattaforma russo, ovviamente, solido e compatto. Tra i 79.634 partecipanti alla consultazione nazionale, anche i big pentastellati della regione e la base del movimento hanno espresso il loro voto. E al punto 23, tra i 23 punti messi nero su bianco da realizzare, c'è al numero 6 l'impegno per accelerare la ricostruzione post-terremoto. Polemiche, invece, per la gara sui social a pubblicare il voto, che tra l'altro era segreto, motivandolo con lunghi, anzi, lunghissimi post. Sequestra una coppia di anziani, sempre in prima pagina, appena lieve, la badante adesso è già in libertà, aveva avuto una relazione con l'uomo assistito, perciò riteneva che la casa ormai le appartenesse. Andiamo a vedere adesso la prima pagina dell'edizione pesarese del resto del Carlino. Quel muro viene giù, il titolo San Benedetto e dintorni, angoli di città che cadono a pezzi. Badante e violenta, ma lui la rivuole, condannata per sequestro di persone e danneggiamenti. Affano, caccia il pusher della mamma morta, braccato un nigeriano. L'iniziativa invece sull'autobus e con la bici, il servizio non decolla. Un operaio che minaccia di botte il figlio scatta l'arresto e a Urbino Aquiloni. La festa finisce in polemica. La contrada, la vagina dice abbiamo subito torti, adesso basta. La prima pagina di ancora invece, la carica dei mille per entrare all'università, medicina, folla i test, ma solo 182 posti sono disponibili. Tragico, parto alla Salesi sotto torchio i medici, sei ispettori del Ministero per nove ore di chiarimenti. Bagni vietati invece dal passetto a Falconara, ennesimi sversamenti in mare per la pioggia. Ecco il progetto delle vasche. Poi c'è la di Francisca che si sposa. Andiamo a vedere, ecco qua, sempre in prima pagina, sull'edizione di Ancona. Elisa si sposa, ho più ansia che per un oro alle Olimpiadi. La pagina interna del resto del Carlino, la pagina di Fano, minaccia di botte il figlio, arrestato un operario di 50 anni, portato in cella un anno fa, un altro litigio con denuncia. L'uomo adesso in carcere, oggi verrà portato davanti al GIP per la convalida del provvedimento di arresto, eseguito in flagranza. Un anno fa il figlio, 19 anni, aveva chiamato, 18 anni, quest'anno ne ha 19, aveva chiamato i carabinieri per le minacce e le violenze psicologiche che affermava di subire dal padre. Tutto questo anche perché è cambiata la legge. Dal 9 agosto scorso la legge prevede che ogni querela sia trasmessa subito alla PM. I reati da codice rosso sono maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking e lesioni avvenute in famiglia o in relazioni di convivenza. Sequestrò un anziano, una badante è stata condannata a 9 mesi di reclusione. È una badante di 42 anni, Ucraina, che nel marzo scorso aveva tenuto sotto sequestro per due giorni il suo assistito di 77 anni e la moglie invalida dell'uomo. Li ho bloccati perché ero gelosa e ubriaca, si è difesa la donna fin dal primo momento, ed è stata la difesa tenuta anche ieri al processo che vedeva l'imputata accusata di maltrattamenti, sequestro di persona, violenza privata e danneggiamenti. L'anziano ha ritirato tutte le querele contro la sua badante, anche perché poi è nato nel frattempo un sentimento. In mezzo c'era anche la moglie di quest'uomo di 77 anni, che nel frattempo è rientrato a casa, una donna che è invalida, quindi per un po' di tempo è stata fuori, poi è dovuta rientrare in casa, e in casa si è trovato il marito con la badante, in qualche modo che avevano iniziato questo rapporto. Il giudice ha disposto, come dicevamo, l'immediata scarcerazione della donna, visto che era in cella dal marzo scorso. Ora però non è chiaro, scrive Roberto Damiani sul Carlino, dove andrà, ma l'occhiolino del 77enne durante l'udienza, sembra voler significare soltanto una cosa. Torna Tania perché ti aspetto. Un ex calciatore che è stato condannato a sei mesi, un pesaresi di 37 anni, arrestato perché è trovato in possesso di due grammi di cocaina lo scorso agosto, ieri c'è stata l'udienza davanti al giudice monocratico, nella casa dell'uomo di origini fanesi, ma residente a Pesero, erano stati trovati appena due grammi di sostanza. Nell'indagine c'è finita anche una 45enne fanese, tutti e due entrambi accusati di spaccio di stupefacenti, una volta tagliati i due etti di coca, potevano diventare 700-800 dosi e fruttare fino a 50 mila euro. La base operativa era in un appartamento in via 24 maggio, proprio vicino al Tribunale di Pesero, insomma una sorta di base logistica, lei era stata sorpresa con la droga nella borsa, mentre lui, alla vista dei carabinieri, aveva tentato di disfarsi di tre dosi. Affano task force per un ricovero, però lui non era in casa, i vigili del fuoco hanno forzato una finestra, a prensione ovviamente tra i vicini, si pensava che l'uomo fosse barricato in casa e armato, i carabinieri si sono presentati in tenuta antisommossa. Il Corriere Adriatico pubblica invece questa mattina una intervista a firma di Lorenzo Furlani al Maggiore Alfonso Falcucci, che lascia dopo sei anni il comando della compagnia dei carabinieri di Fano destinato a quella di Legnano. E Falcucci dice, sempre risolti i fatti criminali più gravi, ma attenzione alle infiltrazioni mafiose. Il Maggiore illustra il lavoro svolto a Fano ed esalta la collaborazione tra le forze di polizia. E poi tra l'altro coglie l'occasione anche per ringraziare e parlare del Vescovo di Fano Armando Trasarti, lo definisce uomo di grande profondità, virtuosi rapporti anche con i sindaci, la decisione poi di comprare qui una casa. Infatti a maggio Alfonso Falcucci è stato eletto consigliere comunale a Castella Sant'Angelo sul Nera, suo paese d'origine, dove lo zio è sindaco, lo zio Mauro Falcucci. Sulla strada da Legnano, dice il Maggiore, sarà d'obbligo dunque la tappa a Fano, una città accogliente, piacevole e pragmatica, dove anche io e la mia famiglia abbiamo deciso di mettere radici, comprando una piccola casa per gli anni futuri. E che cosa succederà? Il passaggio, il passaggio da lunedì prossimo, il comando della Compagnia dei Carabellini di Fano passerà al capitano Maximiliano Papale, di 42 anni, attualmente comandante del nucleo operativo e radiomobile dell'Aquila. Andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, la pagina 2, Caserma e Nuovo Lungomare, ecco le priorità della Giunta dopo le ferie di agosto. Le ferie sono finite, riprende dunque l'attività amministrativa e riprendono anche i lavori commissionati dall'amministrazione comunale e precedentemente interrotti per la temporanea chiusura delle aziende. Il comune di Fano concentra la sua attività sulle scuole e sugli impianti sportivi. Secondo le dichiarazioni del sindaco, giunte a termine della fase burocratica della caserma, c'è anche il progetto appunto della caserma di Vigile del Fuoco. Quindi a questo punto, dopo le ferie estive, si arriva ad una situazione ben più precisa che insomma dà speranze per vedere questa nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Poi c'è anche un gruppo di studio che già è al lavoro invece per progettare il nuovo palazzetto dello sport. Fanno a bisogno, come si dice, come il pane di questa nuova struttura. Nessun riferimento alla variante invece per Pesaro. Ieri il temporale ha mandato in tilt alcune vie, alcune abitazioni di alcuni quartieri, diversi quartieri della città di Fano. C'è in particolare in questo articolo il racconto di un disagio di una famiglia che vive in via del Ponte, sempre a Fano, nel quartiere di San Lazzaro, vicino all'incrocio con via Fraghetto e che è stata messa alla prova dal temporale. La signora, la padrona di casa, dice non ne possiamo più ogni volta che piove è così. Sono uscita in giardino di fretta e furia per arginare l'acqua. Ho costruito una sorta di diga, una sorta di barriera mettendo a terra una fila di vecchi scalini. Nel frattempo mi facevano la doccia agli schizzi delle automobili che nonostante tutto continuavano a percorrere la strada a velocità sostenuta. Caccia il pusher della mamma morta ha braccato un nigeriano sospettato di aver venduto la dose letale a Marika Carletti. La mamma morta a Fano, questo giovane, era seguito da settimane dalla polizia perché è considerato un boss dello spaccio. Quando gli agenti lo hanno fermato per un controllo lui è fuggito saltando giù da un'auto quasi in corsa e rifugiandosi nel parcheggio multipiano agli archi. arrestato per resistenza pubblico ufficiale è un richiedente asilo di 34 anni residente a Iesi con moglie e figli nel primo pomeriggio di lunedì ha dato spettacolo in un rocambolesco in seguimento iniziato alla stazione ferroviaria di Ancona e terminata in via Marconi. Allarme canile affollato di trovatelli cani abbandonati triste record 10 solo nel mese di agosto portati in salvo dall'associazione che si occupa di questi animali che è l'associazione Melampo che per bocca di Roberto Tomassini dice ha un numero vergognoso che ci riporta indietro nel tempo da 20 anni mai stato così. e poi c'è un po' di fano nella fiaccolata dell'amicizia i vertici Avis corrono per 80 km presidente e vice della sezione gemellata con Viterbo Marco Savelli che è il presidente dice in strada con Veronica Verna missione del sindaco Seri nessun regalo alla Renco torniamo a Pesaro e la corsia rimarrà unica l'assessore Belloni replica l'opposizione e agli automobilisti che protestano per il restringimento che probabilmente creerà questo effetto imbucto lungo la Monte Feltro l'azienda sta valutando di scaglionare l'ingresso dei suoi dipendenti San Nicola i primi divieti scatteranno nel fine settimana i provvedimenti interesseranno gran parte della zona del mare quasi tempo della fiera di San Nicola lo ricordiamo dalle 20 di lunedì e fino alle 12 del giorno successivo alla fine della fiera sarà attivato il divieto di soste di transito in molte vie del lungomare e sui teli strappati negli alberghi abbandonati occorre intervenire come è stato fatto a Villa Marina la polizia locale ha individuato in zona mare almeno tre strutture dismesse con coperture a brandelli questa è l'ex hotel Adria di Viale Trieste a Pesero i proprietari rischiano una multa se non provvederanno con nuove installazioni i ladri che hanno portato a segno un maxicolpo in Viale della Vittoria una razzia all'interno di un'abitazione dell'abitazione dell'avvocato Giannola un bottino piuttosto ingente un bottino di 300 mila euro sulla ferrovia che è un po' un sogno ma che chissà magari fra qualche decennio si potrà anche realizzare vedremo ferrovia da arretrare quella che passa di fianco al mare alla spiaggia non molliamo aspettiamo solo che nasca il governo il Comune di Pesero rilancia e intanto firma un protocollo con gli ordini professionali per intercettare possibili fondi europei a giorni uscirà il bando per assegnare l'incarico per la riqualificazione invece di Palazzo Ricci basta morti sulla statale adriatica il mio impegno con ANAS parla l'assessore del Comune di Mondolfo Carlo Diotallevi che illustra gli interventi dopo l'incidente dell'altro ieri dove è morta una donna di 78 anni il vice sindaco dice purtroppo c'è stato un altro incidente esprimo la vicinanza di tutta l'amministrazione familiare della vittima Maria Testaguzza la statale 16 è molto trafficata e da noi attraversa per intero il centro abitato e ciò aumenta il rischio di sinistri si può fare qualcosa per diminuire la pericolosità chiede il giornalista chiede Franceschetti la risposta premesso che l'arteria è gestita da ANAS e che ogni intervento deve essere concordato col gestore devo dire che questa giunta ha già adattato più di una misura e si parla di quelle che sono le misure adottate per esempio il posizionamento di due speed check agli ingressi di Marotta uno sul lato sud e l'altro sul lato nord che non servono solo come deterrente ma che spesso ospitano davvero l'autovelox perché poi spesso si dice che questi siano sempre vuoti in realtà a volte c'è anche la macchinetta fotografica e quindi che fa le multe per chi trasgredisce a Urbino a Quiloni volano le polemiche a Deofesta la contrada lavaggine annuncia il suo disimpegno abbiamo subito gravi torti in questo articolo si spiega il perché quali siano questi torti a detta di questa contrada e della possibilità che la vagine non partecipi più a questa iniziativa a questo evento Capitale Europea della Cultura nel patto inserita anche Fano siamo sulla pagina del Corriere di Urbino l'invito dei gruppi consigliari di PD e vive Urbino al sindaco Garbini la candidatura se ci sarà Fano sarà più forte credono che l'accordo tra il sindaco di Urbino e quello di Pesaro sia solo un primo passo verso la possibile concretizzazione di questo progetto sempre nell'interesse della città del territorio occorre però che nella candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033 vada inserito a pieno titolo la città di Fano portatrice anch'essa di interessi culturali importanti la cui presenza non farà altro che incrementare la probabilità di riuscita di un così ampio e importante progetto e adesso la pagina di Vallefoglia al via l'anno scolastico una mano tesa ai dirigenti Ucchielli incontra i presidi di due istituti a Monbaroccio collegio docenti in teatro al via il controllo di vicinato siamo a Fossombrone una solidarietà tra i cittadini l'organizzazione fa capo ai volontari oer informazioni per carabinieri e polizia locale tutti i cittadini sono invitati a collaborare per garantire la migliore sicurezza possibile all'intera comunità ed è quindi pronto questo progetto denominato controllo del vicinato in collaborazione con alcune associazioni e il patrocinio del comune e la presentazione avverrà il 14 settembre che è un sabato dove sono state invitate tutte le autorità civili e militari il sottopasso pedonale siamo a Mondolfo nel comune di Mondolfo quindi a Marotta completato tra 15 mesi dice il sindaco Nicola Barbieri dopo la chiusura a lunedì del passaggio a livello ferroviario un'apertura parziale a giugno 2020 e consegna dell'opera a dicembre dell'anno prossimo sono questi i tempi per i lavori del nuovo sottopasso pedonale che rete ferroviaria italiana realizzerà al posto dell'ormai ex attraversamento carrabile tra via Roma e piazza Riosto chiuso definitivamente lunedì scorso e il sindaco Barbieri insieme ai tecnici e agli ingegneri delle ferrovie in collaborazione con l'architetto Cento Scudi ha illustrato anche con le diapositive e le slide il sottopasso del futuro il tesoro e la scoperta di Alte e Cultura a Mondolfo piace la novità della caccia che ha creato spettacolo e grande scena storica poi da Cattolica censimento delle case sfitte per la riconversione urbana e la proposta di Cattolica Futura al Comune per dire stop al consumo di suolo basta buche in strada siamo sulla pagina di Senigallia mezzo milione per il restyling del lungomare Mameli con l'avanzo di bilancio cantieri anche in via Adige strada della Marina e stradone Misa via Rodi al traguardo appaltata la ciclovia adriatica sul lungomare Alighieri ma piazza Simoncini slitta al 2020 impianto dei rifiuti a Cesano il sindaco chiarisca l'opposizione chiede un passaggio in aula consiglieri tutti all'oscuro e adesso chiudiamo con quella che potrebbe essere una notizia che dispiacerà a tanti perché Facebook è pronta a oscurare i like Instagram l'ho già fatto nuovo colpo dunque per i cosiddetti influencer quelli che hanno tanti mi piace tanti like e dunque fanno tendenza ed ora l'overdose di narcisismo e la Nike economy che ha fatto emergere figure come gli influencer potrebbe subire un altro colpo dopo Instagram anche Facebook starebbe per sperimentare l'oscuramento dei mi piace per liberare gli utenti dalla pressione direi psicologica del consenso un trend che sta diventando molto comune tra le piattaforme social anche YouTube da settembre non mostrerà più il numero esatto di utenti dei canali ma solo un numero approssimato la novità su Facebook è stata scoperta da una ricercatrice che si chiama Wong che ha adocchiato sulla versione dell'app per Android una funzione che permette di nascondere appunto questi like segno che il test potrebbe diventare pubblico con una semplice attivazione da parte del social network di Mark Zuckerberg che vedete nella fotografia qui a sinistra il sito TechCrunch ha chiesto e ricevuto la conferma dalla società di Mello Park che sta considerando di avviare questo test di oscuramento dei mi piace un esperimento che ha già intrapreso Instagram anche questo scoperto dalla Wong e poi avviato ufficialmente dall'app di proprietà di Zuckerberg in sette paesi Canada Brasilia Australia Nuova Zelanda Irlanda Giappone e in Italia da luglio ora il contatore dei mi piace non è visibile pubblicamente ma può essere visualizzato dall'autore del post vogliamo aiutare dicono le persone a porre l'attenzione su foto e video condivise non su quanti like ricevono aveva spiegato qualche settimana fa uno dei boss di Instagram aggiungendo che la piattaforma doveva essere un luogo dove tutti possono sentirsi liberi di esprimersi e questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa rassegna stampa che torna domani mattina alle sette puntuali come sempre noi ci vediamo invece stasera per il telegiornale vi ricordo per chi segue in diretta la rassegna stampa che alle sette e trenta ci collegheremo in diretta con la Santa Casa di Loreto per la messa del giorno grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie